Si è svolta all'Istituto Balsofiore di Forio l'attesa riunione per definire le modalità di svolgimento dell'anno scolastico ormai alle porte, dopo il terremoto del 21 agosto, che ha reso inagibili la maggior parte dei plessi scolastici presenti nel territorio di Casamicciolo e l'Acquameno. All'incontro erano presenti il direttore dell'ufficio scolastico della Regione Campania, dottoressa Luisa Francese, il commissario per l'emergenza sisma, l'architetto Giuseppe Grimaldi, l'assessore all'edilizia scolastica della città metropolitana, Domenico Marrazzo, il referente di Elmiur Rocco Gervasio, tutti i dirigenti scolastici e i sindaci dell'isola Dischia. La buona notizia è che anche sulla nostra isola l'anno scolastico comincerà regolarmente, secondo quanto previsto dal calendario regionale, ossia il 14 settembre. Ma per riuscire a supplire la carenza di aule, conseguenza dell'inagibilità di numerosi istituti, sarà necessario ricorrere ai doppi turni. Nella sede del liceo all'Acquameno i lavori in corso si concluderanno entro il 14 settembre, ma le 19 aule disponibili nella struttura accoglieranno gli alunni delle 34 classi dell'Istituto Tecnico Mattei di Casamicciola, che si alterneranno con doppi turni. Gli studenti del biegno andranno tutti al polifunzionale di Ischia, dove faranno i doppi turni con i colleghi del triennio. Per quanto riguarda invece l'Istituto Comprensivo Ibsen di Casamicciola, le scuole elementari saranno ospitate nel pomeriggio nelle aule dei plessi di Ischia 1, Marconi, e Ischia 2, Bonocore a carta romana, mentre le medie si trasferiranno in orario pomeridiano presso le scuole medie Giovanni Scotti di Ischia. Le elementari di Lacquameno saranno ospitate nel pomeriggio in parte nel plesso dello Scentone e in parte in quello di Balsofiore, mentre le scuole medie saranno trasferite sempre in orario pomeridiano presso le scuole medie di Panza. Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Mennella si divideranno in due. Una parte effettuerà i doppi turni presso la sede di Forio, San Vito, ex Isabella d'Este, mentre dieci aule saranno messe a disposizione nel pomeriggio presso l'Istituto Alberghiero Telese di Ischia. I bambini iscritti infine negli asili di Forio saranno ospitati in parte presso il Balsofiore e in parte presso il plesso di Santa Caterina da Siena, dove si dovrà ricorrere ai doppi turni.